Nella vita c'è una cosa che non smettiamo mai di fare. Scegliere. C'è chi le sue scelte ha appena iniziato a farle. E chi invece ha scelto una passione e le ha dato valore. Qualcuno vede i frutti delle scelte che ha fatto tempo fa. C'è chi avrà più scelte domani, perché oggi c'è chi sceglie per lui. Nella tua banca di comunità trovi una persona che ti aiuta a realizzare i tuoi progetti previdenziali e di investimento in ogni momento della vita. Scegli BCC o Romagnolo. Scegli BCC.